Cosa scriveci, Agne? Cosa scriveci? Oggi levo una poesia che si intitula pinta. Questo è il mio ultimo libro dove sta una fotografia dal grande Adriano. Poi c'è un commento di Cinzia sulla conta copertina. Oggi levo un poema che si intitula Brindo. Brindo, per la mia passata gioventù, per gli anni che ho vissuto, Brindo, per quel fiore appassito che è stato perso nell'odio. Brindo, per i momenti della vita che tante volte ho pianto e in molti altri ho riso, anche sanguinando la ferita. Brindo, per i miei sogni non realizzati, per i miei passi incompiuti, per i desideri confusi, lungo le mie vie abbandonate. Brindo, per l'amore che vive nella mia anima, per la donna che apri le sue ali, vivo nei suoi sogni, mi dà la calma per i piacevoli momenti che mi regali. Brindo, per il mio ego, per le mie vanità, per le mie cose banali e i miei difetti. Brindo, per tutti le mie crudeltà, per la mia folia e la mia rovina. Brindo, amore, brindo. Grazie. 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 Grazie a tutti.